Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per aver organizzato questo evento, un evento importante e i saluti istituzionali che avete giustamente ricevuto, testimoniano l'attenzione che c'è da parte di istituzioni e permettetene anche da parte mia, di Stefano, anche l'onorevole di maggio qui nel pubblico, evidentemente avete sicuramente mobilitato e nobilitato un argomento importante che spesso invece viene visto in termini, non voglio dire negativi, ma in termini esclusivamente speculativi come la filiera dell'immobiliare, invece c'è dietro all'idea di immobiliare, di sviluppo immobiliare, di filiera immobiliare, c'è come abbiamo già sentito dai primi interventi e a maggio che sentiremo anche dopo, c'è un'idea di società e quindi io parto da alcune valutazioni che anche Marco stava sviluppando prima, cioè la prima è quella, oggi si parla tanto di transizione ecologica, ecco io credo che la transizione ecologica, l'efficientamento energetico, la produzione di energia che possa essere il più possibile neutra dal punto di vista dell'inquinamento, ecco, possa avere, vedere l'immobiliare come uno, anzi debba vedere l'immobiliare come uno dei protagonisti importanti, anche come si diceva nella prospettiva dei grandi centri commerciali, delle gallerie commerciali che possono essere una risorsa in questo senso perché possono essere al centro per esempio della decormonizzazione, come si diceva, delle comunità energetiche, insomma di quelle che sono gli sviluppi attuali di questo tema e su questo sicuramente lavoreremo. Poi credo che un'altra idea che a me piace è l'idea appunto di filiera che metta insieme un po' tutto, i produttori, i sviluppatori, coloro che appunto poi hanno magari la capacità di costruire, di investire, mettere insieme senza particolari conflittualità, diciamo il piccolo commercio di quartiere, il commercio di più grandi dimensioni, i centri delle gallerie commerciali, il commercio online, insomma tutto quello che può però avere un'ottica di sviluppo del made in Italy, insomma. Io credo che questo sia un'altra idea che noi dobbiamo avere, cioè vedere il commercio come, che è l'argomento di cui io mi occupo per il conto di Fratelli d'Italia, come lo sviluppo insomma di tutta una filiera identitaria se vogliamo dal punto di vista della produzione, di quello che è il made in Italy, di quello che sono le celezze italiane, che sono le agroalimentare come lo sappiamo, c'è stato un dibattito approfondito sul tema anche della sovranità alimentare che qualcuno ha voluto in qualche modo dipingere necessariamente, poi è stato spiegato che la sovranità alimentare è una dottrina, insomma, chiamiamola politica sociale che è in voga almeno dagli anni 60, insomma non ha nulla a che vedere con sovranismi politici ed è proprio quello che dicevamo, cioè il valorizzare e enfatizzare il prodotto del territorio, quindi dal punto di vista appunto della filiera gastronomica, della filiera alimentare, della filiera del design, della filiera dell'alta tecnologia che l'Italia ancora riesce a produrre, quindi ecco queste sono un po' le due idee, insomma quella di vedere il commercio come lo sviluppo della nostra tradizione produttiva italiana, ma soprattutto anche come renderla attuale, il caso appunto della transizione energetica è abbastanza evidente.